È stata chiamata Casa Lolec, come il nomignolo dato a Giovanni Paolo II dai suoi genitori, il pontefice che è stato l'ispiratore dell'associazione Papa Carol, nata dieci anni fa grazie ad un gruppo di amici che sono stati a lui vicini in alcune importanti occasioni. Per questo decisero di farsi promotori di iniziative sociali, seguendo la sua ispirazione dottirinale e partendo da un servizio agli anziani, soli o fragili. Però l'associazione con sede operativa in Via Nolfi a Fanno è sempre stata alla ricerca di una struttura dove poter operare in modo più organizzato. Oggi questo desiderio è stato realizzato, dopo molte difficoltà e lungaggini burocratiche, nel 2013 finalmente è stata posata la prima pietra, a Gallo di Petriano, dove una benefattrice ha deciso di donare un terreno per realizzare un suo vecchio sogno. La signora Fabrizioli è stata il momento culminante, la nostra Faustina ha avuto comunque sempre un sogno, è sempre stata una donna che ha vissuto nell'accoglienza e trovandosi sola ha deciso che nel suo terreno dove aveva un allevamento sarebbe stato molto bello avere una costruzione con cui poter incontrare e vivere assieme alle amiche del posto. La costruzione è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione di privati, di soci, di enti e di associazioni che hanno creduto nel progetto, oltre ai fondi derivati dal lavoro degli associati. Dunque anche il Comune è stata una parte fondamentale perché ha appoggiato fin da subito l'iniziativa. Devo dire che appena dalla precedente amministrazione il sindaco Gianmarco Cecconi ha appoggiato in pieno l'iniziativa dell'associazione Papa Carol e in conseguenza poi comunque anche noi in questo momento ci siamo adoperati affinché tutto venisse in una maniera veloce e anche con dei privati locali, con le fondazioni abbiamo cercato di reperire dei fondi e con l'aiuto, grazie ai volontari di Papa Carol, siamo arrivati alla conclusione dell'opera che verrà inaugurata il 28 di febbraio. La struttura di 500 metri quadri è realizzata in legno nel rispetto dell'ambiente e a basso consumo energetico. La casa inoltre è suddivisa in due poli, è un centro di urno dedicato all'accoglienza con programmi personalizzati e una struttura sanitaria con ambulatori e sala per fisioterapia dedicata non solo agli ospiti della casa ma anche ad utenti esterni. È dotata di cucina, palestra, ampio parco e parcheggio e anche di una cappellina dove ci si può raccogliere i momenti di preghiera. Inoltre si organizzano incontri di laboratorio, ricreativi, culturali e aggregativi come mercatini e pesche solidali. Le nostre ragazze sono dai 60 anni agli 85-90 e sono tutte signore e piene di vita adesso. E attraverso questa attività dove si sono impegnate con tanto entusiasmo, molte testimoniano di aver ritrovato il gusto della vita e di sentirsi ancora importanti per qualcosa e per qualcuno. Hanno fatto e creato dei laboratori anche proprio nei loro scantinati? Sì, abbiamo delle stanze dove ognuno ha riscoperto quello che sapeva fare da giovane, chi cuciva abiti da sposa, chi faceva la sarta, chi ricamava. Sapendo che il ricavato dei mercatini solidali sostiene questo progetto di Casa Lolec e le assistenze domiciliari laddove ci sono problemi. Vicino a loro, a queste ragazze più grandi, ci sono i ragazzi più giovani, parliamo di giovani trentenni. Queste sono persone che si sono messe in gioco invece per aprire la cooperativa Amici di Lolec.